La non vittoria non impedisce la festa perché la festa è di tutti. Stefano dicevo battagliero dall'inizio, battagliere. Pino per me questo è vincere, è vincere. Brava, brava, brava! Abbiamo visto vittorie emozionanti e siamo stati grandi per questo. Abbiamo cercato di giocare con lealtà, sempre con onore, ma sono sicuro che ci sono stati anche tanti valori in questa squadra e io credo che questo, anche se siamo arrivati a secondi, ci abbia fatto vincere. Forse è vero! Sono parole che dicono tutto di quello che è lo spirito di giochi senza pensieri. Non devo aggiungere nulla. E premiamo il capitano dell'inverno classificato al secondo posto. Stefano Aceto con le loro vice, Fabiana Lorenza e Matteo Tricca, il giovanissimo Matteo. Glielo facciamo, un grosso applauso all'inverno! Bravissimi, bravissimi! Ok.